Allora, secondo me cantiamo insieme, ma forse è troppo scondato, se chiamiamo pomeriggio napoletano, non so se pare che è scondato, eccetera, ci sono, ho trovato il titolo della nostra trasmissione, a me, ciao musica, è indaudito perché? Ciao musica per salutare le persone vicine e lontano, ti piace? Però, secondo te, ciao musica perché? Ciao musica per salutare gli ospiti che ci vengono a trovare, mi conoscevo io, ciao musica, è il figlio anche di Frateruga, se l'avete per scontato, ma come sono per così Frateruga, è una certa bellissima notte, guardate che stiamo realizzando uno sport, e beh per scontato di me, la trasmissione si chiamerà ciao musica. Di conseguenza, Ivo Capessa dice, perché si chiama, ciao musica, perché non ho pocato cantato qui tutti e tre, ciao alla musica, ma chi va da su? Allora appuntamento è tutti i giorni, dalle ore dici a sette, il Cingham Napoli, alle ore diciannove e trenta, i sette e mezza, insieme a Lino Tozzi, a Giovanna De Sio, il vostro amico Alberto Serri, e modestamente, a capo, 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 a capo? la trasmissione qual è? ciao musica ciao 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 signori io vi voto una jastemma simpatica una jastemma simpatica chi non vede il nostro programma qui a Ciao TV sa attasuna ignorami ciao su Ciao TV ed RTE Ciao Musica